Ciao a tutti, quest'oggi vi mostrerò come costruire una torre dell'acqua su Minecraft Cominciamo con il mettere giù un muretto di pietra Saltiamo uno spazio e mettiamone un altro In diagonale ad uno, mettiamone un altro E saltando un altro spazio e un altro ancora Ripetiamo ciò che abbiamo fatto specularmente dalla parte opposta Fatto ciò, avremo una cosa del genere Poi, alziamo tutti questi muretti di 5 ognuno Poi, alziamo tutti questi muretti di pietra E ad altezza 2 mettiamo un muretto per unire quelli distanti 1 Ripetiamo la cosa due spazi più in alto E poi ancora Successivamente entriamo in mezzo a queste colonne E mettiamo altri muretti per unirle anche diagonalmente dall'interno Poi mettiamo sulle estremità superiori dell'andesite levigata Riempiamo il centro con delle lastre di mattoni di pietra E poi facciamo dei muri alti 2 di pietra su ogni angolo Sopra questi muri mettiamo ancora dell'andesite levigata Su ogni lato mettiamo delle scalette di legna di quercia scura E su ogni angolo mettiamo delle lastre sempre di quercia scura Uniamo le parti superiori delle scalette con delle altre lastre di legna A questo punto possiamo riempire questo serbatoio di acqua E infine chiudere la parte superiore con una lastra più in alto di mezzo blocco Con questo abbiamo la nostra torre dell'acqua E noi ci vediamo nel mio prossimo video Ciao a tutti